Per chi non l'avesse capito, One Days non è un festival. Per chi non l'avesse capito, una vita estremamente compressa e corta, che bruciano le loro energie creative in pochi anni. E' che ha solo due note nel tema, quindi è per quello che ci piaceva l'idea di suonarla insieme. Solamente noi con la batteria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 30. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.